La Pafoni va a caccia del poker di vittorie, a Gravellone alle 21 sabato contro la Virtus Arechi Salerno. C'è grande entusiasmo, c'è una squadra che adesso ha preso consapevolezza della propria forza. Sì, siamo in una striscia positiva di tre vittorie, quindi chiaramente vogliamo dare continuità ai risultati. Siamo perfetti per giocare sabato con Salerno in casa, che è una partita che vogliamo vincere. Ci aspettiamo grande entusiasmo sugli spalti. Cosa è cambiato, Emanuele, in queste ultime due o tre settimane? Non lo so, forse ci siamo conosciuti meglio, abbiamo capito cosa dobbiamo fare per vincere. Però ricordate che adesso siamo tutti sul petto, siamo tutti concentrati, con gli obiettivi ben chiari di portare a casa la partita di Salerno e poi la partita successiva. Anche perché questo è un campionato, la storia recente ce lo dice, che ogni giornata regala risultati a sorpresa. Sì, ogni giornata regala risultati a sorpresa, infatti anche, mi dicevo, tre parti di fila, comunque già delle posizioni in classifica le scali abbastanza facilmente, perché chiaramente non c'è nessuna squadra che le vince tutte, nessuna squadra che le perde tutte. Quindi adesso non dico che siamo dove volevamo essere, ma siamo sulla giusta strada chiaramente per rifarci e per andare nelle parti più alte della classifica. Grazie.